Ok, ho lasciato un po' di bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Allora, Italia Uniform Zero, Francia, bravo, America, lo ascolto malissimo, quasi inascoltabile, quasi almeno da me, il collega IK1 GLN invece l'ho ascoltato abbastanza chiaramente, bisogna dire che siamo vicini e quindi paradossalmente come è giusto che sia, è più difficile ascoltarsi. Ok, prima vai a vederla, è carina, è un po' impegnativa come costruzione, è un kit che io ho comprato direttamente negli Stati Uniti e così mi piaceva l'idea di assemblarmi un qualcosa di DSDR. Adesso ho fatto caso col monitor attivo che effettivamente c'è un soffio, devo controllare i settaggi della scheda audio, perché dipende dalla scheda audio del computer, quindi controllerò bene i settaggi del microfono e controllerò che non ci siano problemi. Va bene, io rimango un po' in ascolto, diciamo che siamo in tanti, forse anche in troppi, spesso se uno ha il numero di telefono fa prima a chiamare il corrispondente telefonicamente che non... Grazie!